Ciao. Ciao. Ti stai facendo una canna? Mi sembrava un buon modo per sottolineare il momento. Quale momento? Quello in cui vengo a stare qui. Ah. Scusami? Sono andato via di casa. Voglio vivere con te. Tutto oggi? Perché? Che altro? Niente. Ma non sei contenta? Sì. È che non me l'aspettavo tutto qui. Sì. 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 Grazie a tutti.